Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. I poveri sempre più italiani, sempre più drammaticamente giovani e analfabeti. Dati che fanno tremare i polsi, questo è il commento di Don Viterano della Sala, vice direttore della Caritas, che insieme al direttore Carlo Mela ha illustrato i risultati del report sulle marginalità sociali nell'ambito della prima tappa della giornata mondiale dei poveri promossa dalla Caritas di Occesana di Avellino. Il numero delle persone disagiate che sono state accolte e ascoltate presso i sei centri della Caritas è stato nel 2017 pari a 906 persone, 588 italiani e 328 stranieri. Tra stranieri italiani, in totale ci sono ad Avellino 446 minori a rischio povertà assoluta. Da sottolineare, come anticipato, anche il livello da codice rosso rappresentato dalla povertà educativa. L'80% degli indigenti italiani ha raggiunto la sola istruzione obbligatoria, un rischio per queste persone di ritrovarsi vittime di un analfabetismo di ritorno, di un blocco nella speranza di mobilità sociale per quei 465 figli minori registrati e il perpetrarsi di una povertà generazionale. Una provincia che si va sempre più impoverendo, dove i giovani quest'anno il rapporto che presenteremo a livello regionale a Cerreto sabato mette in risalto un focus sulla povertà dei giovani, giovani che non hanno speranza, giovani che vanno via, paesi che si stanno desertificando. È un tasso di descolarizzazione che preoccupa, che però pare che a livello istituzionale non viene tenuto in conto. Questo è anche, dall'altro aspetto, come garante. Io, quello che incontro nelle carceri sono ragazzi. Cioè le carceri sono pieni di giovani. giovani che non hanno prospettive e che diventano imbaragati in queste maglie della criminalità anche per sciocchezze e che la cosa strana è che dentro il carcere vanno a scuola. Ci sono dati Istat che fanno tremare i pulsi soprattutto anche per la nostra provincia che ovviamente è purtroppo in linea con il resto del paese. Il divario tra ricchi e poveri aumenta sempre di più. Le istituzioni, qual è il loro compito in questo? Il compito delle istituzioni sarebbe quello di far chiudere la Caritas. Cioè fuori dallo scherzo. Ecco, se le Caritas sono costrette a prestare tanto aiuto a tante persone in difficoltà questa è la prova che l'assistenza sociale quella dei comuni funziona poco.